Doveva essere una normale serata tra amici, quella di due giovanissimi pesaresi che hanno deciso di trascorrerla nei pressi della Rocca Malatestiana a Fano, ma così non è stato. Protagonisti di questa brutta vicenda, avvenuta sabato scorso, un diciassettenne e un diciottenne, entrambi di Pesaro, che appena arrivati ai giardini hanno dato subito all'occhio ad un branco di ragazzi circa della loro età e tutti stranieri. L'elemento scatenante? Lo smalto alle unghie del maggiorenne. Ad un certo punto, questo gruppo, formato da una ventina di giovani, si sono rivolti prima a parole contro i due, poi avvicinandosi e vedendo lo smalto alle unghie di questo ragazzo, lo hanno bloccato rubandogli prima le collane che aveva al collo e poi, con un accendino, hanno cercato di dargli fuoco alle dita così da poter togliere quello smalto di colore nero. E proprio mentre la situazione degenerava, l'amico diciassettenne ha cercato di fermare il branco, ma avendola peggio, perché si sono fiondati su di lui, sferrandogli pugni in faccia, calci e percosse su tutto il corpo. Una scena infernale che ha attirato l'attenzione di un ragazzo che ha prontamente chiamato le forze dell'ordine e il 118. All'arrivo del 112 e della polizia di Fano, il gruppo si è dileguato, rubando ai due giovani anche gli effetti personali come cellulari e chiavi di casa. Sul luogo dell'accaduto, i sanitari hanno subito soccorso il diciassettenne, ricoperto di sangue a causa di una frattura al naso. Trasportato all'ospedale, gli hanno riscontrato fratture sul braccio e un dito rotto e altre lesioni. I medici gli hanno dato 30 giorni di prognosi. Sull'accaduto ora sta indagando il commissariato di polizia di Fano.